Le parole del Presidente e del Nannatore sulla responsabilità da Capitano, se tu ti senti di avere questa responsabilità da Capitano, è essere l'esempio per tutti gli atteggiatori di Napoli. Noi crediamo in te ovviamente. Grazie, io ho sempre, anche senza la fascia, quando Marek era il Capitano e lo spogliato, io ho sempre dato la mano ai compagni e lo farò sempre con la fascia o senza. Le parole del Ministro e del Presidente sicuramente non le interpretate male, ma in senso buono per darmi una carica in più, per farmi iniziare questo anno al 100%.